Meglio i Silani in avvio, poi il Paternò si scrolla di dosso alcune timidezze e con una buona circolazione di palla mette paura gli ospiti. Aquino, Pappalardo, Saverino e Cervillera chiamano agli straordinari Caruso. E l'antipasto domenicale del vantaggio che cade al minuto 22. Puliziere di Saverino irrompe Lautaro Fernandez, palla sul palo interno e Paternesi avanti tra l'entusiasmo generale nell'occasione del pubblico e del campo amico ritrovato per la seconda volta in questa stagione. Castrovillari domabile ma con troppi spazi lasciati liberi, il pericolo si trasforma in seria minaccia. Moi prima e Aceto, soprattutto poi vicini al pari della mezz'ora mentre Kappa si distende sulla telefonata di Longo. Quindi è ancora Longo, sinistro ottimamente intercettato da Kappa e poi Asillani di testa solletica alla retroguardia di casa. In mezzo alle quattro proposizioni offensive di Rossoblu, ospiti, il Paternò risponde prontamente e chiude increscendo il primo tempo. Due chance per cementare il risultato, la prima di Saverino che trova sul palo pronto Caruso a chiudere. La seconda di Lautaro che a conti fatti manca il 2-0 passandolo al portiere ospite al termine di un'invenzione firmata Moran Blanco per il cross di Asero. La musica e soprattutto i numeri sul tabellone cambiano a 90 secondi dal rientro in campo. Dorato porta a spasso la difesa e porge con un traversone in mezzo la palla del pari a Longo, spalleggiato da Manes in ritardo sull'intervento liberatorio a centro area di rigore. Castrovillari al pari è galvanizzato, Cosenza manca il bersaglio da buona posizione e Caprisito, liberato e libero di agire in area, trova in Kappa l'ultimo a Baluardo. Il Paternò è stordito dopo essere stato punito ed è anche impreciso in avanti Cervillera da dimenticare, suo assist di Saverino. I calabresi si rivelano più chirurgici sotto porta e al quattordicesimo, al termine di una discesa con annessa giocata insistita a sinistra, trovano il sorpasso. Il tapin di Dorato è una vera e propria mazzata alla partita e al risultato. Sul 2-1 il Paternò con orgoglio si getta in avanti e si espone di conseguenza ai contropiede avversari. Su uno di questi, al ventitresimo puntuale, ecco la chiusura sipario della gara. L'ispiratissimo Dorato confeziona il bis personale di Redi con un pallonetto a mezza altezza e fa 1-3 con poco più di 20 minuti ancora da giocare. Zappalà e Bamba da poco in campo provano a riaprirla. Di fronte a Caruso e Soci si arrendono creando una sola opportunità e tante, troppe mischie, mentre il Castrovillari, ormai con la testa ha una importante vittoria per la classifica, preferisce non inferire nei minuti finali.